Una situazione ormai insostenibile, difficile che è quella che si è venuta a creare. Non abbiamo più il servizio su ferro e il servizio sostitutivo con gli autobus non riesce a soddisfare la vera esigenza di coloro che sono costretti ad utilizzare il servizio sostitutivo sulla tratta Benevento-Napoli. Per cui è doveroso che le forze politiche in questo momento, i sindaci innanzitutto, si mettono a fianco ai nostri pendolari che quotidianamente stanno vivendo questa grande difficoltà e adalzando la voce devono chiedere di potenziare almeno la linea sostitutiva dell'autobus o quantomeno di potenziare le corse che in un certo qual modo sono più affollate. Mi riferisco a quella delle 7 di mattina Benevento-Napoli e soprattutto quella della sera di ritorno dal nostro capologo di regione delle 16.50. Questa è la richiesta che io mi pregio di sottopore all'attenzione della dirigenza affinché il disagio dei nostri pendolari in questo momento di difficoltà, emergenza Covid da un lato e il caldo che inizia a caratterizzare la nostra estate stanno mettendo in ginocchio i nostri concittadini. Sindaco, si può pensare a una task force comune? Un po' tutti i sindaci, già tre volte è stato fatto, ma questa volta calcare un po' la mano perché è una situazione insostenibile. Sì, chiederò ad Antonio oppure a Roberto, se a breve faremo il passaggio sulla presidenza della città caudina, a farsi carico di questa iniziativa di tutti i sindaci della Valle Caudina sulla dirigenza per ottenere questa cosa di cui abbiamo proposto.